Ecco, come diceva già Enrico poco fa, il lunedì dedichiamo quasi sempre uno spazio a questi giovani talenti che poi vengono inseriti in una speciale classifica, la classifica degli under 30 di Forbes. Sono appunto dei giovani sotto i 30 anni particolarmente talentuosi. Siccome da pochissimi giorni è stata pubblicata la classifica 2021, ci piacerebbe anche un po' capire chi sono questi ragazzi, come si scelgono questi 100 giovani, perché la classifica è fatta appunto da 100 nomi, ma anche come ci si candida, perché magari c'è qualcuno all'ascolto che ha individuato qualche under 30 di valore e vuole segnalarlo. Facciamo tutto questo con il managing director di Forbes, che proprio si occupa nello specifico di questa classifica, Daniel Settembre. Buongiorno e grazie per essere con noi, Daniel. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Buongiorno Daniel, grazie a te naturalmente per averlo accettato. Allora, questi 100 talenti, naturalmente non sarà possibile citarli tutti, però portaci a esplorare un po'. Quella che non è una classifica, ce lo confermerai, ma è proprio un elenco, un elenco di nomi. Sì, esatto, non è una classifica, è in ordine alfabetico ovviamente, è una lista, è una selezione di 100 nomi under 30, tutti sotto i 30 anni, divisi per 20 categorie. È un po' un... ci è piaciuto raccontare un po' l'attualità attraverso le loro idee, il loro talento e anche le loro start-up, perché stanno davvero in qualche modo rivoluzionando il settore di appartenenza e cambiando davvero le nostre vite, cambiando il modo in cui mangiamo, in cui acquistiamo, in cui anche ci divertiamo, ecco. Ecco, giustamente. Allora, visto che magari anche Galletti, anche Galanto, si potrebbero candidare, volendo come giovani... Non esagererei. Beh, allora mi candido io, ci metto la faccia. Come si fa per candidarsi? Allora, è un processo in cui noi stiamo quotidianamente vicino a queste realtà, a queste start-up, a questi giovani ovviamente, quindi è una nostra anche ricerca interna della redazione e non solo, c'è anche un form online a cui si può candidare, a cui si può accedere sul nostro sito, quindi candidare terzi conoscenti under 30 o anche autocandidarsi. Ecco, quindi è un mix poi che viene da qui emerge questa lista, fatta dalla nostra ricerca, dalla nostra selezione e anche candidature, ecco. Certamente. Ora, adesso dobbiamo entrare un po' nel vivo anche, no, di questo elenco 2021. Facci qualche nome, aiutaci un po', dacci qualche anticipazione, tanto poi sai che andiamo a intervistarli, li avremo con noi nei vari lunedì, però insomma, anche magari figure già note, perché se non ricordo male, nelle scorse edizioni c'è stata Elodie, per esempio, per stare nel mondo della musica, piuttosto che Elettra Lamborghini, ma moltissimi altri. Ci aiuti? Beh, sì, ecco, guarda, restando sempre nel campo della musica, c'era molto Sanremo in questa lista, anche perché, oltre appunto Madame e Gaia Gozzi, anche Imaneskin erano entrati nella nostra lista due anni fa e anche Beatrice Venezzi tre anni fa. Ecco, in realtà, oltre a questi talenti appunto della musica, nel mondo dell'intrattenimento, lo spettacolo, lo sport, ci sono anche altre categorie e altri talenti, abbiamo voluto premiare un po' l'imprenditorialità di questi ragazzi e appunto, come dicevo prima, raccontare un po' l'attualità e quindi in un anno, in questi 12 mesi in cui la pandemia e il Covid hanno rivoluzionato davvero le nostre vite, pensiamo magari anche a come ci curiamo. Ecco, per dare un esempio concreto c'è un team di Under 30 che ha creato un'app che recapita le medicine a casa tua, direttamente a casa tua, quindi con un'app si può ordinare a domicilio le medicine e per restare anche un po' in tema sostenibilità che va di moda le vengono a recapitare in monopattino, ecco, per esempio. Poi ci sono sempre in ambito al care, c'è una ragazza che ha fondato, ha creato questa piattaforma di matching per trovare lo psicologo su misura, ecco, pensiamo a quanto la quarantena abbia un po' messo sotto stress anche la nostra salute mentale e quindi è importante rivolgersi a uno bravo, infatti la piattaforma si chiama così. C'è chi ha fatto qualcosa anche per la didattica a distanza, vero, rapidamente? Assolutamente, c'è tanta educazione anche in questa lista, ci sono due ragazze, Elisa Piscitelli e Maria Paola Testa, per esempio, che hanno creato una piattaforma Orientami che dà sostegno di orientamento ai ragazzi del liceo e quindi li aiuta con corsi di formazione e webinar a scegliere la propria strada e a scegliere la propria università. In un periodo non facilissimo per l'istruzione, come ricordiamo spesso qui, noi li sentiremo molto volentieri perché sono veramente under 30 che meritano la massima visibilità. Grazie al Managing Director di Forbes, Daniel Settembre, per essere stato con noi e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata.